TORTOBELLO Sai qual è la notizia più bella? No, qual è? Dicono che io sia un camorrista. TORTORA! TORTORA! Un dramma giudiziario lungo 1185 giorni che l'inventore di Portobello affronterà con rabbia e dignità fino alla sentenza che lo assolverà definitivamente da ogni accusa. Lei se la sentirebbe di difendere il commenza o tortora? Il presentatore l'ha già visto nella televisione invece da Ciuburo quando ha avuto la battezzata Tortora Camorrista. Chi è che dice queste bestialità io vorrei sapere. Questo ha solo i giudici di Napoli lo sanno, dottore. Per Film Cronaca, un uomo per bene. Mercoledì alle 21.10 sulla 7. Dove eravamo rimasti?